abbiamo visto la scorsa volta come che sketchup scaricare 2015 abbiamo visto che una volta scaricato bisogna configurarlo per la stampa 3d che è una stupidata bisogna solo scegliere per la stampa 3d e abbiamo visto anche che cosa possiamo fare abbiamo scaricato un plugin abbiamo installato in modo da gestire gli stm adesso vorrei farvi vedere subito delle cose belle da fare con sketchups e delle cose utili molto semplice e veloce una cosa importare un file io sono andato su thingverse e ho trovato questo oggetto l'ho scaricato l'ho salvato sulla scrivania e si chiama cambody faccio doppio clic me lo importa molto velocemente perché è un file leggero certo che se lavorate se se pretendete di importare una scansione in sketchup è un po difficile dovete avere un computer molto 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 potente ma se inserite un pezzo così piccolino con poca superficie si può fare sembrano i tutorial che dovete vederli uno dietro l'altro cioè dovete vederli fin dall'inizio per capire bene o male cosa è sketchup come si utilizza e per cosa usarlo non è un programma non è che potete usare solo questo è un programma utile ma non fondamentale nel senso che ci sono altri programmi per disegnare in 3d sono molto più belli consentono di fare molto più cose il problema è che sono a pagamento e che la formazione insomma è un po difficile usarli questo qua è molto intuitivo io posso aumentare diminuire in scala l'oggetto posso scrivere per esempio voglio fare un regalo scarico un cavatappi scrivo mario lino è il mio amico mario lino posso mettergli la scritta sopra un oggetto che gli stampo lo stupiscono la incido sopra una volta che tu appoggi che non c'è spazio fra una cosa e l'altra clicchi tutte e due o selezioni tutto file esporti l'stl e lo stampi se c'è qualche piccolo problema qualche piccolo problema lo passi in mesh mixer lo analizzi ma questo tipo di operazione è una cosa che quotidianamente fai sketchup e mesh mixer o altrimenti stl mesh mixer e infine cura se questo video qua ti è stato utile metti un bel like e condividilo anche condividilo alla prossima